Buongiorno, voglio ringraziare tutti i polski cittadini e cittadini. Volevo dire che non si può parlare il vostro angolo, ma il mio dantico dantico. E dunque, la casa editrice Marginesi mi fa il grande onore di pubblicare in lingua polacca il mio libro su Dante. E io vorrei in due parole dirvi perché Dante è importante. Al di là del mio libro, che è il libro di uno storico, il mio libro è la storia di un uomo, è la vita di un uomo vissuto nel Medioevo e che come gli uomini del suo tempo ha fatto tante cose così come si facevano a quell'epoca. Dante è un uomo che ha amato, che è stato sposato, che ha fatto dei figli e si è preoccupato di loro, è un uomo che ha fatto la politica, che ha fatto la guerra, che ha vissuto una vita lunga e travagliata, attraversando un'epoca fondamentale della storia dell'Europa come appunto il Medioevo. Dante è uno dei pochissimi uomini, ecco forse si può paragonare a Shakespeare in questo, è uno dei pochissimi uomini che hanno saputo esprimere nella loro opera la spinta dell'uomo a cercare di capire, cercare di capire chi siamo, perché viviamo su questa terra, lo ha fatto al modo di un uomo del Medioevo che credeva in Dio, che credeva in un universo razionale creato da un Dio buono e rovinato troppo spesso dalla malvagità degli uomini. Ma nel fare questo, nella sua opera fondamentale, nella commedia, Dante ha espresso l'aspirazione che è sempre stata in tutte le epoche degli esseri umani, di capire e di raccontare chi siamo e cosa ci facciamo su questa terra. Ecco Dante è importante anche oggi, anche nel nostro mondo Dante è importante. Dante è importante per tutti quelli per cui sono importanti la poesia, e la lingua e la fede in Dio per chi vuole e per tutti la fede nell'umanità.